Reppe Sannino, era a Masaghi in mezzo a 4.500 spettatori, porti bene! Reppe, non lo so, è la prima volta che vengo venuto a fare il Varese, è sempre bello perché sembra uno stadio quando c'eravamo noi sul campo a giocare a casa. Sono felice perché è sempre una squadra di Varese, una squadra importante. Buon Natale a tutti e forza Varese, palla a canestro! Grazie Reppe!